Ma questi belli caurami, questi belli giusti con passi social, questi belli che diretti che la moglie se ne fai pulito fa, la gente perla, purtroppo la gente mora perla, ma la gente costruita con l'occhio lì, sia come ricevi o è come ricevesse, ecco qua, perché pure lei come donna seria, zitta, muta come una muta, come una mamma muta, e basta, basta non è così, ma lo si fa, lo si va, lo si fa, lo si va, lo si va, lo si va, andiamo la gente capisce, lì, ho stoppato, è finito di là, ok, lo si va, gli ho stoppato, è il fernuto piano, ok, e non ci basta, gli ho passi social, lo sai, ti mangio fai dedicato con il marito.